Nel 2013 edizione di Coca-Cola Cup abbiamo anche chiesto gli studenti di partecipare di provare con alcuni progetti che potrebbero suggerire come riciclare meglio nel futuro. Era una gara indetta tra le scuole della regione. Il progetto è cominciato tutto quando il professore ci ha informato che c'era questo progetto della Coca-Cola. È un progetto in cui noi dobbiamo partecipare creando dei giochi comuni, dei giochi semplici con materiale riciclato Coca-Cola. E quindi ho detto vogliamo vincere un campetto di calcetto pagato dalla Coca-Cola, offerto dalla Coca-Cola in erba sintetica di ultima generazione. Naturalmente l'interesse è stato grande. Allora noi abbiamo deciso di metterci in gioco e quindi abbiamo affrontato questa sfida. Io vi ho scelto perché penso che siete all'altezza. E hanno realizzato dei lavori davvero interessanti come creatività, come innovazione e quindi hanno dato anche la possibilità di sviluppare quelle doti che i ragazzi normalmente nelle scuole non hanno la possibilità di fare. Con il riciclo adesso ho capito che si possono fare anche delle grandi cose, come abbiamo fatto noi, che con piccole cose tipo con tappi, con bottiglie siamo riusciti a realizzare qualcosa di grande e adesso stiamo facendo questo. Il Liceo Garofano in Capua è uno dei tre vincitori di questo contesto e hanno realizzato specificamente perché hanno dato una nuova idea su come è possibile giocare e rimanere insieme con i ragazzi, giocare con materiali riciclati come parte della botola, capi, parte del corpo della botola. Grazie alle nostre attività, alle nostre cose che abbiamo fatto abbiamo cambiato un po' questa scuola sia per quanto riguarda il campetto sia per quanto riguarda il riciclaggio dentro qui a scuola. Il progetto ci ha unito come classe, ha unito anche la scuola alla comunità perché il campetto viene usato anche per altri progetti dal comune di Capua. Tutti i meriti si sono ancora riconosciuti e tutti sono orgognosi di noi.